Buonasera, benvenuti alla nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, una visita, quella di Papa Francesco Adasti, attesa da anni e che le 19 ed il 20 novembre prossimo si concretizzerà. L'ho annunciato oggi il Vescovo della città, Monsignor Marco Prastaro, nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in occasione del novantesimo compleanno di una sua cugina, si legge nella nota della Prefettura della Casa Pontificia, il Santo Padre si reccherà Adasti per incontrare i familiari in una visita riservata. Domenica presiderà l'Eucarestia alle 11 nella Cattedrale di Asti per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori che emigrarono in Argentina. In Subbuglio, la città piemontese che dalla nomina di Papa Francesco più volte aveva cercato di invitarlo ad Asti anche tramite un comitato costituito apposta, che nel 2013 gli aveva fatto recapitare una bottiglia di vino rosso speciale con tanto di etichetta, Asti ti aspetta a braccia aperte. Si tratta della seconda visita piemontese del Santo Padre che nel 2015 si era recato a Torino. L'ultima volta che un Papa era stato ad Asti risale invece al settembre del 1993, quando Giovanni Paolo II rispose ad un invito proprio della diocesi. Il sindacato Anao Assomed Piemonte ha presentato un ricorso al TAR della regione per chiedere l'annullamento previa sospensiva della delibera che prevede per nove anni l'esternalizzazione dei servizi di fisiatria e di pronto soccorso dell'ospedale di Tortona in provincia di Alessandria. Riteniamo grave che si affidi la gestione del pronto soccorso alle cooperative per i prossimi nove anni, scrive l'associazione in una nota ed in particolare riteniamo che l'esternalizzazione del reparto di fisiatria andasse in tutti i modi evitata, cercando di attuare soluzioni alternative per mantenere la gestione pubblica del servizio. L'ASLA aveva indetto nel maggio scorso un concorso per assumere fisiatri e a questo proposito Anao segnala che la graduatoria sarebbe ancora aperta con altri tre specializzandi che potevano essere chiamati e poi assunti. Sarebbe stato necessario esaurita la graduatoria, scrivono ancora, indire un concorso specifico per il reparto di fisiatria Tortona che attualmente non esiste poiché ad oggi l'attività è ambulatoriale, domiciliare e di consulenze interne. Inoltre per rendere attrattivo il servizio sarebbe stato indispensabile procedere con la nomina del primario mentre il bando per il conferimento di incarico di dirigente è stato indetto a marzo 2020 ma il concorso non è mai stato effettuato. C'erano altre strade percorribili per aprire un reparto di fisiatria Tortona, conclude il sindacato, chiediamo al TAR che obblighi l'azienda a percorrerle e che venga sospeso così il bando. Prosegue la settimana di mobilitazione nazionale da parte dei sindacati per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli infortuni sul lavoro. Questa mattina al Cinemambra di Alessandria, alla riunione di Cigelle Cislewil in vista della manifestazione di sabato prossimo a Roma in piazza Santi Apostoli. E purtroppo le statistiche ci dicono che la provincia di Alessandria è una tra le prime per morti sul lavoro. Alessandra Della Cato. Nel rapporto fra decessi sul lavoro e numero di occupati, quella di Alessandria è la provincia più flagellata al nord, collocandosi oggi al terzo posto di una classifica che solo qualche anno fa la vedeva in quindicesima posizione. E a settembre sono stati 12 morti nell'Alessandrino riconosciuti nell'anno dal sistema INAIL contro i 4-6 del passato. E' questa la fotografia scattata questa mattina al Teatro Ambra di Alessandria in occasione della riunione di Cigelle Cislewil per preparare la manifestazione nazionale che si terrà a Roma sabato 22 ottobre per chiedere alle forze politiche di impegnarsi per fermare questa strage. Siamo arrivati a un punto che non è assolutamente più sostenibile. Stiamo riscontrando gli estremi di una strage. Tre morti al giorno per andare a lavorare sono una follia. Tant'è che il nostro segretario generale della UIL Bombardieri ha detto che bisognerebbe istituire una procura speciale per andare a indagare su queste vittime perché nel momento in cui un incidente sul lavoro è causa di una manomissione di un'attrezzatura o di quant'altro non siamo più di fronte a un semplice incidente ma siamo di fronte a un omicidio. E' vero che ci sono tre morti al giorno ufficiali sul lavoro in realtà sono molti di più perché a questi bisogna aggiungere tutti quelli che non sono all'interno del sistema INAIL e quindi che non sono assicurati. Parliamo di lavoratori in nero, parliamo di lavoratori in aree grigie del lavoro, parliamo di tutti quelli che non vengono classificati come morti sul lavoro. Già oggi siamo a più di mille nel 2022. Poi c'è il discorso della cultura appunto della sicurezza sul lavoro che tanto viene richiamata negli ambienti professionali, nelle scuole, il formare persone proprio a lavorare. Sì, abbiamo bisogno di formare le persone a lavorare, abbiamo bisogno di formare anche i datori di lavoro che non hanno spesso la competenza in materia per comprendere cosa significa la sicurezza sul lavoro. Ma noi chiediamo che ci sia un progetto che parta già dalla scuola perché noi non vogliamo che i ragazzi muoiano sul lavoro come è accaduto purtroppo in quest'anno. Non esistono solo gli infortuni sul lavoro fisici, non esistono solo gli infortuni sul lavoro mortali, esistono anche malattie professionali collegate alla psiche per esempio. Assolutamente, ci sono interi settori, penso ad esempio al settore bancario, postale, i lavori soprattutto quelli sottoposti a fortissime pressioni di tipo di natura commerciale, quanto hai venduto, perché non hai venduto, perché il tuo vicino di scrivania ha venduto. Noi sappiamo che in alcuni di questi settori, ci trovano a caso prima il settore bancario e finanziario, abbiamo tra i maggiori consumatori di psicofarmaci per categoria a livello nazionale. Allora, è evidente che queste non sono patologie fisiche e quindi non stiamo parlando di rischio di morte imminente piuttosto che di pericolo per la vita da un momento all'altro, però sono patologie che nel tempo possono causare dei danni enormi alle persone, alle famiglie, all'organismo umano. A livello regionale parte oggi una lettera di richiesta di incontro al Presidente Cirio, dove noi chiederemo per l'appunto di istituire un tavolo sui temi di salute e sicurezza. Nel frattempo, unitariamente, costruiremo una nostra piattaforma che presenteremo in un'iniziativa che dovrebbe collocarsi intorno alla fine del mese di novembre. Abbiamo posto la questione di salute e sicurezza, che però, lo dicevo, lo sottolinea unitaria, al primo posto. Quindi per noi è fondamentale e faremo tutto quello che possiamo fare per fermare questa strage. Erano stati condannati in primo e secondo grado, ma oggi la Cassazione ha deciso di assolverli. Si tratta di tre medici che erano stati portati a processo per l'accusa di aver annotato le loro presenze al carcere Don Soria di Alessandria per più ore rispetto a quelle realmente lavorate. Il reato contestato era abuso d'ufficio. Cinque mesi ad Eugenio Anisio, otto ad Anna Davì e dieci mesi a Letterio Quartarone. Tino Goglino ed Alexia Celerino, difensori dei medici, avevano presentato appello ritenendo che ci fossero dei gravi errori nella compilazione dei registri di presenza. La Corte d'Appello aveva riqualificato il reato da abuso d'ufficio a truffa aggravata e ieri, con il ricorso in Cassazione, i tre medici sono stati assolti. Gli agenti del commissariato di barriera di Milano-Torino hanno arrestato un ragazzo di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto dopo la segnalazione di un cittadino che ha riferito di un ragazzo che nell'orto del nonno coltivava marijuana, poi effettivamente ritrovata dagli agenti nel luogo indicato. Nel garage dell'abitazione del giovane i poliziotti hanno trovato un laboratorio per la produzione della sostanza sequestrando un birancino di precisione, marijuana, un termometro per l'acidità dell'acqua, un'apparecchiatura per il sottovuoto e altro materiale utile alla produzione, al confezionamento e ai fini di spaccio delle dosi. Inoltre, nella casa del ragazzo sono state sequestrate altre dosi di sostanza stupefacente, 3.300 euro in contanti che si ritiene siano di provenienza illecita. Con una lunga amicizia alle spalle, finalmente Genova intitolerà una strada a Londra e presenterà l'edizione 2023 dei Rolly Day all'Istituto di Cultura dell'Ambasciata Italiana nella capitale britannica, due iniziative che rafforzeranno ulteriormente le relazioni tra le due città dopo la visita nel 1980 da parte della regina Elisabetta. alla cerimonia erano presenti il sindaco Marco Bucci, il prefetto Renato Franceschelli e la console del Regno Unito a Genova, Denise Asching Dardani. Durante l'incontro sono stati ripercorsi alcuni degli episodi più importanti, tra cui anche quando la loro presidente del Genova, Renzo Fossati, non poteva consegnare la sovrana perché il protocollo ne vietò la visita. Verrà posta una targa nei pressi del Civico 10 di Via Palestro dove a fine Ottocento aveva sede il Consolato Britannico e dove venne stipulato anche l'atto costitutivo del Genoa. Consegnate a quattro studentesse le borse di studio Domenico Ivaldi di quest'anno, iniziativa che aveva avuto già un grande successo lo scorso anno, un'occasione per credere sempre di più nelle nuove generazioni e per ricordare una persona che nel mondo dell'economia alessandrina ha avuto un ruolo particolare. Ce ne parla Beatrice Augustaro. Giorgia Gatti, Malna e Delage, Sennui, Ironia, Fernando, Emanuela Sina e Alessia Vicentin sono in tutto quattro l'ex studentese dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Alessandria che hanno ricevuto la borsa di studio Domenico Ivaldi, grande figura professionale dell'alessandrino scomparso due anni fa. Professore, collaboratore, amico, il nome di Domenico Ivaldi viene ricordato soprattutto nei progetti dedicati alle nuove generazioni, come l'assiniazione di questi riconoscimenti, nelle quali, come lo ricorda la famiglia, il dottore Ivaldi credeva molto. Ho conosciuto il dottore Ivaldi per decenni nella professione e nella vita comune ed era un personaggio veramente straordinario, metteva prima di tutto l'uomo, prima di tutto il rapporto personale e quindi merita veramente di essere ricordato e di essere ricordato con un riconoscimento dei giovani per i quali lui ha dato tanto e a lui interessava moltissimo poter crescere le nuove generazioni. Le borse di studio di quest'anno, finanziate dai familiari, la Fondazione Solida e la CRAL, stimano un valore di 4.000 euro ripartite alle quattro rincitrici che all'esame di Stato avevano ottenuto il voto complessivo di 100 su 100 e che proseguiranno i propri studi universitari nelle facoltà economico-giuridiche. Il professor Ivaldi entrava sempre in classe con il sorriso e sapeva catturare l'attenzione di ognuno di noi, ha ricordato una sua ex alunna. Ciò che apprezzava di più era la sincerità, anche in quelle volte in cui non avevamo studiato per interrogazione o volevamo andare in bagno per fumare una sigaretta. Ho avuto l'onore di essere sia una sua studentessa che sua collaboratrice nella vita professionale. È un ricordo veramente speciale per tutti e penso anche dall'accoglienza che abbiamo avuto sia da parte di Solidal che da parte della Fondazione Cassa di Risparmio per aiutare sia i ragazzi meritevoli in questo caso e che si vanno avanti negli studi universitari e per ricordare come lui avrebbe voluto la sua figura, quindi non solo esclusivamente nel ricordo classico ma anche con qualcosa di fattivo per le generazioni future. E ora andiamo a vedere di che cosa si è occupato oggi Maurizio Silvestri con i suoi tre minuti. Ed eccoci qua, allora tre minuti realizzati a Ovada ma nello specifico le voglio realizzare per sapere un po' come mi devo comportare tra pochissimo perché arriva l'obbligo delle ruote da neve e tanti automobilisti sono in ascolto. Io sono qua con Gianni, buongiorno Gianni. Buongiorno Maurizio, buongiorno. Allora Gianni tu ormai hai una vita che lavori in questo campo noi come pubblico vogliamo sapere quando parte l'obbligo delle gomme da neve e che tipo di gomme ci consigli. Allora l'obbligo parte dal 15 di novembre si possono già iniziare a montare a partire dal 15 ottobre. Perfetto, molti sono convinti io metto delle belle gomme larghe così almeno vado con la neve. Allora la gomma larga sulla neve non va bene è consigliabile metterla la più stretta possibile sempre compatibilmente con il libretto di circolazione. Parliamo delle gomme, giusto per informazione molti sono convinti che le ruote chiodate si possono ancora mettere invece? Allora le gomme chiodate in casi particolari si possono ancora mettere non si possono usare in autostrada non si può fare più degli 80 km all'ora e sono obbligatori i paraspruzzi montati. Mentre invece le quattro stagioni ci possono ancora mettere? Allora le quattro stagioni sono gomme che stanno prendendo sempre più piede perché comunque offrono un buon compromesso per tutte le stagioni dell'anno non sono adatte per tutti lì veramente bisogna fare una specie di intervista al cliente per vedere di non sbagliare il consiglio perché se si sbaglia il consiglio uno dice le quattro stagioni non le vorrò mai più perché vanno male invece in determinati usi in determinati casi ormai siamo a una quota quasi del 30% di utenti che montano quattro stagioni anche qua da noi che sono zone sempre storicamente più dedicate alla gomma invernale. Ecco un consiglio per il mantenimento della gomma? Allora la gomma va mantenuta non esposta al sole non in posti troppo secchi asciutti tipo il sottotetto e possibilmente in piedi non impilate a quattro una sopra l'altra ma messe in verticale in questo modo qua. Perfetto quindi io penso che insomma ormai vi abbia detto tutto prepariamoci all'inverno quindi perché poi ragazzi la gomma è un po' come le nostre scarpe è la sicurezza della macchina. Certo se si pensa che tutto ciò che è la macchina appoggia poi su quattro pneumatici che hanno un'impronta terra quando va bene di 30 cm quadrati diciamo che la gomma è sempre più da tenere in considerazione insieme ad altre cose come freni eccetera però la gomma ci collega all'asfalto. vi ha detto tutto con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti buon lavoro a Gianni e buona continuazione. Bene allora noi siamo arrivati al termine del nostro telegiornale c'è il tempo però per ricordarvi che subito dopo di noi come sempre c'è la pagina dello sport curata da Fabrizio Mattana oggi si parlerà fra le altre cose anche dell'acqui pallavolo che ha dominato in serie B ma poi vi ricordo che alle 18.30 c'è diretta stadio con lo speciale Coppa Italia bene grazie per averci seguito noi ci vediamo domani sempre negli stessi orari con le nostre informazioni buona serata grazie per averci seguito